Ne avevamo già parlato nel settembre 2012. Cosa succede? Google mette allo studio un particolare tipo di lenti a contatto che integra un sistema chip più sensore, ovviamente molto molto piccoli. Giunge in questi giorni l'approvazione del brevetto da parte appunto degli uffici preposti degli Stati Uniti. Cosa succede? In pratica questo brevetto spiana la strada a una collaborazione con Novartis per la realizzazione di una particolare lente a contatto che integra un sensore in grado di rilevare il quantitativo di glucosio nel sangue attraverso il liquido racrimale, quindi molto utile per esempio per i malati di diabete. Un progetto che sembrava davvero fantascientifico ma che potrebbe prendere la strada della realtà molto presto. Si tratta anche in questi casi di tecnologia indossabile, sebbene in modo molto differente da quello che siamo abituati a pensare come gli smartwatch e poco altro. Il brevetto è abbastanza vago, prevede la realizzazione di uno strato contenente un chip, uno strato contenente un sensore, il tutto ricoperto da un polimero che va a costituire la lente a contatto finale. In molti ci vedono già il futuro, nel senso che oggi è un sensore per usi medici, un domani potrebbe essere il mezzo con cui accedere alla realtà aumentata prima e alla realtà virtuale poi. È arrivato un campione. Proviamo il campione, quello della realtà virtuale. va bene. Grazie a tutti i i i i i Grazie.